Quali sono le microcalcificazioni su una mammografia? Occasionalmente, depositi di calcio possono accumularsi all'interno del tessuto del seno. Questi piccoli accumuli non sono rilevabili con esami manuali del seno, ma possono essere visti come microcalcificazioni su una mammografia. Mentre questi accumuli possono essere un'indicazione del cancro al seno, sono spesso abbastanza benigni. Mentre si può prendere in considerazione il cancro al seno in stadio precoce, ci sono diverse cause più comuni e meno gravi di calcificazioni del seno. Più comunemente, le microcalcificazioni su una mammografia possono essere collegate a una ferita di guarigione del seno. In alcuni casi, i dotti lattici nel seno possono espessirsi e intasarsi, causando calcificazioni. Allo stesso modo, la mastite, un'infezione del tessuto mammario, può anche causare un risultato mammografico anormale. Quando si esaminano le microcalcificazioni su una mammografia, i medici esaminano le loro dimensioni, la loro forma e i loro raggruppamenti. I maggiori depositi di sali di calcio sono chiamati macrocalcificazioni. Questi sono normalmente indolori e innocui. A meno che queste calcificazioni del seno non causino disagio, non è richiesto alcun ulteriore trattamento. I mammogrammi che mostrano piccoli punti bianchi rotondi sparsi sul seno sono comuni e generalmente non destano preoccupazione. I grenelli bianchi che sono piatti o altrimenti di forma strana sono più inquietanti. Le situazioni in cui questi accumuli di forma irregolare sono densamente raccolti possono indicare la presenza precoce di cancro al seno. Anche quando le microcalcificazioni su una mammografia causano preoccupazione, la presenza di cancro al seno è spesso esclusa da mammografie successive che si concentrano specificamente sulle aree di calcificazione. Test aggiuntivi, tra cui immagini a ultrasuoni e analisi del sangue, possono essere ordinati. Nei casi in cui si sospetti fortemente la presenza di cancro al seno, può essere eseguita una biopsia. Fortunatamente, anche quando il cancro al seno è determinato come causa di microcalcificazioni su una mammografia, la prognosi è molto buona. Quando il cancro al seno viene diagnosticato in questa fase iniziale di sviluppo, è normalmente chiamato carcinoma duttale in situ, DCIS. In sostanza, questo significa che il cancro è molto localizzato e spesso piuttosto curabile. La maggior parte delle donne con DCIS devono rimuovere solo l'area interessata del seno. Questo intervento minore, chiamato un umpectomi, richiede poco tempo di recupero. Inoltre, questa procedura ha poco o nessun effetto sull'aspetto del seno. La radioterapia viene spesso suggerita per garantire che il tumore sia stato completamente sradicato. Senza miglioramenti nella tecnologia mammografica, la scoperta del DCIS sarebbe quasi impossibile. Storicamente, il cancro al seno era generalmente riscontrabile solo dopo che era diventato così grande da essere sentito dall'esame fisico. Sfortunatamente, a questo punto, il trattamento è stato difficile, e il recupero di successo è venuto normalmente al prezzo di uno o di entrambi i seni. Come tale, l'arrivo di attrezzature abbastanza sensibili da rilevare calcificazioni del seno ha un grande vantaggio nella lotta contro il cancro al seno. Le donne sono incoraggiate a fare uso di questo vantaggio programmando mammografie regolari come parte dei loro regimi di assistenza sanitaria.